Domenico Ciaffaroni sono il sindaco di Montefortino insieme al comune di Montemonaco che è il comune capofila e quello di Montegallo abbiamo pensato per Marche Storie una bellissima leggenda che è quella della Sibilla. I Sibillini sono terre magiche, ci unisce questo splendido luogo a tutti tra i comuni, tre settimane intense, una per ogni comune, siamo arrivati primi in tutte le Marche questa è una grande soddisfazione a chi ci ha fatto il progetto, a Mirko Abruzzetti che è il nostro direttore artistico che è qua con me. Grazie Domenico, allora sì un po' hai accennato tu di cosa parlerà questo progetto sia nello spettacolo principale che farò, interpreterò io come attore, che la favolosa storia del Guerin Meschino sia nelle altre attività, teatro, musica, conferenze, mostre fotografiche, escursioni perché non ci possono che non essere escursioni e passeggiate sui Monti Sibillini e tante altre iniziative. La leggenda parla di questa fata Sibilla che vive nel regno, nella montagna cava appunto della Sibilla e questo Guerin Meschino va a trovarla per sapere chi sono i suoi genitori, poi ci sono tante altre leggende, la stregonerina nelle laghe di Pilato insomma le fate dei piedi caprini, tante tante altre. Noi racconteremo tutto questo insieme a tanti artisti del settore in questi tre fini di settimana con l'appoggio dell'associazione Ho un'idea e con l'appoggio dei tre comuni dei tre sindaci, Montemonaco, Montefortino e Montegallo. Grazie.